Wewe ragazzi e bentornati! Eccoci, finalmente, con la roadmap della stagione 11, il piano d'azione per quanto riguarda Salva il Mondo. Come va, community di Salva il Mondo? Rieccoci con un nuovo piano d'azione. Ecco un'anteprima dei punti forti in arrivo nei prossimi mesi. Vi ricordo che appunto la roadmap è semplicemente un blog che ci va a spiegare quello che succederà nei prossimi mesi su Salva il Mondo. E cominciano con la settimana del 15-10, quindi questa settimana, la versione 11. Nuovo soldato mascherato, silenzio per favore, e ritorna anche Igor, medico della peste, arriva il dottore. Quindi sono due nuovi eroi, uno nuovo, uno no, e poi abbiamo migliorie, sfruttamento, assenza. Il rilevatore di assenza all'interno del gioco è stato rafforzato, perciò per quanto riguarda le persone AFK, quelle che sanno ferme senza giocare. Abbiamo ridotto notevolmente il tempo di attesa prima di rimuovere un giocatore assente dalla partita. I giocatori che non danno il loro contributo alle partite pubbliche saranno avvertiti con un messaggio su schermo. Se non prenderanno provvedimenti, la loro squadra riceverà un avviso e in seguito verranno rimossi automaticamente. I giocatori che non danno il loro contributo agli obiettivi riceveranno meno ricompense rispetto a chi partecipa attivamente. E questo sarà da verificare in che modo influisce appunto sul punteggio. Lama Selvaggio West, appunto i nuovi lama della nuova season, rinnovato e disponibile per un periodo limitato al costo di 500 biglietti evento. Poi arriva la settimana del 22 ottobre, quindi con la versione 11.01. Serie di incarichi Hotel Infestato. Incubi d'oro, comandante, nuovo straniero da brividi, la prima regola del Terror Club è il ritorno del becchino, spedisci gli abietti nella tomba. Quindi avremo la nostra serie di incarichi praticamente settimana prossima. Poi passiamo avanti nella versione 11.10, quindi nella settimana del 29 ottobre. Fortnite l'incubo a inizio. Serie di incarichi Fortnite l'incubo, lupo, uh la la. Il re della tempesta esce da Vallarguta, è tornato e si sta allenando. Il ritorno di Manny, quindi il capobranco tornerà. Il ritorno della pistola fantasma, per chiunque di voi fosse interessato. Il lama Fortnite l'incubo contiene alcuni tra i più classici più amati dai fan e un nuovo set di armi. Costo 500 biglietti evento, nota sostituisce il lama selvaggio west. Quindi nella settimana del 29 ottobre questi lama selvaggio west verranno rimpiazzati dai lama Fortnite l'incubo. Cosa conterranno questi lama Fortnite l'incubo? Conterranno sia i set vecchi per quelli che hanno cominciato a giocare da poco e sia i set nuovi per noi che comunque abbiamo già tutto. Il ritorno del lancio Halloween. Ricordati di raccogliere tutti i superstiti della festa in costume per sbloccare questo classico dispositivo di lancio. Quindi ovviamente un pezzo da collezione da avere a tutti i costi. Si va avanti la versione 11.10 quindi nella settimana del 5 novembre. Avremo un'altra piccola serie di incarichi Fortnite l'incubo campeggio estivo, falce black metal, un bel colpo secco, pensa alla tua salute. Il ritorno di tramonto preparati all'estrazione e il ritorno della mitragliatrice leggera Matt Candy Corn. Sempre nella versione 11.10 però aggiornamento contenuti due nella settimana quindi del 12 novembre. Questa nuova serie di incarichi Fortnite l'incubo quindi la sposa del mostro avrà un costruttore mostro, spada black metal, una spada di genere black metal, pacchetto musica, sblocca questo pacchetto musica per il tuo armadietto e ritorno del corvo che è ancora là fuori che ci aspetta. Dalla versione 11.20 in poi quindi si parla veramente più avanti. Re della tempesta mitico preparati per la battaglia comandante. Preparati ad affrontare il re della tempesta nella battaglia più impegnativa mai vista in salva al mondo. Questa battaglia presenta nuove meccaniche, nuove sfide e un incalzante timer furia. Questa battaglia metterà alla prova anche i giocatori più agguerriti. Chi riuscirà a superare questa sfida avrà la possibilità di ottenere armi mitiche con tutta la potenza del re della tempesta. Queste armi uniche rappresentano il re della tempesta in persona sia per la spezzo sia per la potenza. Ciascuna arma ha un vantaggio distintivo che sblocca azioni speciali. Fin da livello 1 spara proiettili a ricerca per un'incredibile serie di colpi alla testa. Carica la tua arma per scatenare una devastante esplosione laser a catena o evoca meteore dallo spazio per annientare gli abietti. Queste armi vengono rilasciate esclusivamente dal re della tempesta mitico. Se vuoi usarle devi guadagnartele, non possono essere rilasciate dal tuo zaino. Quindi cosa succederà? Ovviamente queste armi mitiche secondo me non potranno essere craftate. Cioè, oddio, potranno essere craftate ma non potranno essere droppate. Ciò vuol dire che non potrete venirmi a chiedere chi non mi puoi far provare quest'arma, chi non non puoi farmi provare quell'altra. Perché hanno rimosso questa funzionalità semplicemente non permettendo ai giocatori di droppare a terra queste armi. Ok, è una scelta interessante in quanto comunque sono le prime e uniche vere armi che vanno conquistate. Hanno incentivato finalmente anche i player più piccoli a salire di livello. Qualora c'è qualcuno di voi che comunque non è abbastanza motivato per arrivare a Montespago, per arrivare in zona alta. Ecco, questo potrebbe essere un buonissimo inizio. Abbiamo ascoltato le osservazioni e le preoccupazioni della community in merito allo stato del metagioco a livello medio-alti. Abbiamo deciso di apportare qualche modifica per migliorare l'esperienza di gioco in ogni istante di Salva al Mondo per tutti i giocatori. Vogliamo anche movimentare le tattiche di gioco per mantenere il gameplay sempre emozionante, con un rinnovato interesse per le contromosse. Qui di seguito ecco alcuni esempi di quello che potete aspettarvi. Regoleremo alcune trappole per renderle più efficaci in determinate situazioni, riducendone invece il peso in altri momenti. In almeno un caso riprogetteremo completamente una trappola per assicurarci che venga usata al meglio e sia apprezzata dai giocatori. Esempio, le trappole a gas disperderanno gli sciami di api, ma i nemici dovranno rimanere nella nuvola di gas per subire danni nel tempo. Effettueremo modifiche ad alcune intelligenze artificiali per renderle meno frustranti in alcuni casi, riducendo invece il loro peso in altre situazioni. Esempio, le bombole di propano non verranno più rilasciate dagli energumeni esplosivi, se questi vengono eliminati prima di lanciarle, o se si autodistruggono. Modificheremo i danni abilità eroe in modo che possono variare con la stessa efficacia di armi. Completamente armadietto, siamo letti di annunciare che gli oggetti estetici verranno completati pienamente. Nel corso di questo capitolo pubblicheremo tutti i componenti degli armadietti, con tanto di migliorie aggiuntive. Ecco alcune delle funzionalità che potete aspettarvi. Personalizza l'aspetto del tuo comandante usando qualunque costume e dorso decorativo che possiedi. Le coperture saranno applicabili a tutte le armi a distanza, alle armi da mischia e anche al tuo hoverboard. Tutti i costumi, dorsi decorativi e picconi reattivi funzioneranno in salvo al mondo, usando criteri diversi rispetto a battaglia reale quando occorre. Il tuo standardo verrà impostato nell'armadietto e potrà funzionare con tutti i costumi, i dorsi decorativi e i picconi che usano lo standardo nel loro aspetto. Noterete che questo è un aggiornamento più leggero rispetto alle altre patch .0 di salvo al mondo. Intendiamo passare a una cadenza meno frequente ma con aggiornamenti più consistenti. Questo ci darà maggior respiro in concomitanza con il lancio dei pass battaglia, che quindi potranno uscire in uno stato più perfezionato. Infine stiamo preparando un'altra entusiasmante funzionalità che speriamo di lanciare in questa stagione. In aggiunta a quanto detto sopra, non siamo ancora pronti per parlarvene ma poco prima dell'uscita prepareremo un post sul blog con tutti i dettagli. Quindi la situazione mi sembra chiara, ovviamente ci hanno detto cosa succederà in questa season ma non fino alla fine. Ciò vuol dire che ci hanno ancora qualche sorpresa in serbo. Ci sono un po' di punti che mi piacerebbe molto chiarire con voi però non intendo far durare questo video tantissimo. Per esempio, sono curioso di vedere queste modifiche alle trappole che effetti daranno al gioco. Sono curioso di vedere queste armi mitiche che effetti daranno anche esse al gioco. Vi ricordate che le avevamo viste in salvo al mondo che vorrei? Mi ero anche sforzato di fare un'animazione che quando colpivo col martello in terra veniva giù il tuono dall'alto. Per fare un'animazione e farvi capire più o meno com'era il concetto. E vedo che questo concetto è diventato praticamente realtà, cioè con un attacco praticamente scenderanno le meteore. Pochi di voi magari si ricorderanno però se vi interessasse vi lascio in descrizione la serie di salvo al mondo che vorrei. E' interessante eh, darci un'occhiata per vedere anche cosa io mi aspettavo da salvo al mondo e come lo sta diventando. Comunque il video sulla roadmap spero vi sia stato abbastanza chiaro. Ci sono un po' di punti che mi piacerebbe appunto approfondire e lo faremo nei prossimi giorni. Pian piano che queste funzioni usciranno le approfondiremo bene bene. Vorrei che questo video restasse una novità comunque per tutti. Quindi io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Vi ringrazio di aver guardato il video. Mi raccomando ricordatevi solo di lasciarmi un bel like. Se vi va di supportarmi come creatore per farlo vi basterà inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite. E io vi ringrazio davvero tanto. Noi ci vediamo direttamente domani. Bella bella! Ciao! Ciao!